Dylan Dog Color Fest numero 39 Stati di paura Finalmente Dylan Dog come dovrebbe sempre essere Wabalabadabdab e bentornati sono Mamamazzo Bentornati nella rubrica Dylan Dog Bentornati nella rubrica Dylan Dog Color Fest Parliamo di un numero che ha avuto qualche problemino di stampa O meglio, che ha sostituito un numero che ha avuto qualche problemino di stampa Tant'è che questo Dylan Dog numero 39 che abbiamo tra le mani Doveva essere il numero 40 che usciva tra tre mesi Però è uscito prima proprio per sopperire al difetto del numero 39 Che non è uscito in tempo È un vero peccato se ci pensiamo perché questo numero Se avesse festeggiato i 40 numeri di Color Fest Sarebbe stato quantomeno azzeccato Perché è davvero fatto col cuore Davvero fatto con i santi crismi Vado subito a spiegare perché Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto Vi chiedo di iscrivervi al mio canale Di mettere un bel mi piace Un non mi piace a questo video E anche a tutti gli altri che vi frega Di condividere il video con tutte le persone Che amano questo fumetto Questo Dylan Dog Color Fest E di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso Di queste tre storie Qual è la vostra preferita Qual è la vostra spreferita Eccetera eccetera Seguitemi anche sugli altri miei social Che trovate qua sotto in descrizione Dylan Dog Tre storie Tre temi importanti Un solo autore Un solo Dylan che si occupa di tutto E un solo Dylan come dovrebbe davvero essere sempre Un Dylan che affonda le mani nell'orrore più reale Nell'orrore peggiore che possiamo affrontare Ovvero la realtà Ovviamente riproposta nella chiave migliore Per il mio gusto personale Ovvero posta in chiave metaforica Posta in chiave fantasy Ma comunque esplicita Come Recchioni stesso ha detto L'autore di tutte e tre queste storie È Lorenzo Palloni Autore che diventa anche curatore in toto Di questo numero E forse è questa la chiave di volta Del Color Fest E cavoli dovrebbe essere la chiave di volta Anche della serie regolare Cavoli Il Color Fest dovrebbe essere la serie regolare Nel 2021 Parliamoci chiaro ragazzi Fanculo Le storie Che ci stiamo portando dietro da anni Perché le hanno scritte Due tre anni fa E ancora le dobbiamo buttare fuori La rivoluzione di Dylan Dogg Non avverrà mai Che poi Che rivoluzione dovrebbe essere Dylan Dogg dovrebbe essere sempre stato così Eppure abbiamo delle storie A volte scialbe A volte filler Qui abbiamo un trimestrale Che si prende il suo tempo Ma spacca di brutto Lorenzo Palloni tratta tre temi Tre temi importanti Ognuno dei quali è affidato A un disegnatore diverso La prima storia Dio di corda e di miseria I disegni sono di Lorenzo Nuti Nella seconda storia I signori dell'oltreodio I disegni sono di Alessandra Marsili Mentre nel terzo Nella terza storia Amor Te Amore Amorte Tema ricorrente L'amore e la morte In Dylan Dogg Qui trattato in maniera Molto Attuale Purtroppo I disegni sono Di Palloni stesso Che è un autore completo Ma nelle prime due storie Ha voluto appunto Affidare i disegni Ad altri disegnatori Forse proprio per Differenziarle meglio Nella prima storia Vediamo Un sogno bagnato Di tantissimi Italiani Di tantissimi Esseri umani In generale Ovvero Vedere la classe politica La classe politica Dirigente La classe politica Quella corrotta Quella vecchia Non inteso come anni Ma inteso come mentalità Quella ancorata A una politica Che non cambia mai Al voler solo star lì A scaldare la poltrona Ad arricchirsi Vediamo Questo tipo Di classe politica Morire Nel modo Più truculento Possibile Ma è una storia Che ci spiega anche Di come Azioni di questo tipo Non Cioè Pensare O fare addirittura Atti violenti Verso Delle persone Orribili Non ci rende Migliori di loro Anzi Assolutamente Ci fa diventare Noi stessi Carnefici E quindi Come questa In realtà Non sia Una reale soluzione Per andare avanti Per cambiare Il paese Che in questo caso È l'Inghilterra Ma che sappiamo Sempre essere Una metafora Del nostro paese La seconda storia Devo dire È la storia Che ho compreso meno Che tocca sicuramente Il discorso Del cambio di genere E anche del gioco Di potere Tra uomo Donna In questa società Patriarcale E di come può essere Appunto Cambiato Il ruolo Del potere A seconda Del genere Di appartenenza È sicuramente Una storia Che vuole toccare Un tema importante Ma che secondo me Si perde un pochino Soprattutto nel finale Però Ripeto Io Magari Non l'ho capita Quindi Se voi L'avete capita meglio Scrivetemelo qua sotto Nei commenti La terza storia È forse quella Più in linea Con la giornata Che c'è stata In questi giorni Il 25 novembre Ovvero la giornata Internazionale Contro la violenza Sulle donne In questa storia Si parla proprio Di violenza Si vedono due tipi Di violenza Incentrati sulla stessa donna In questo caso Ci mostra Quanto è pericoloso Essere donna La protagonista femminile Vive all'interno Di una relazione Tossica Di una relazione Apertamente violenta Dove il compagno La picchia Quindi La violenza Più visibile Fondamentalmente È invischiata In questa relazione E cerca di fuggirne In ogni modo Ma ha paura Di fuggire Dal suo compagno Perché sa che Se non riesce Nell'intento Può picchiarla Ancora più forte La prossima volta In tutto questo Cerca aiuto In due persone Una è Dylan Dog Con Graucio Che Sempre nel suo essere Sopra le righe Fuori luogo Riesce finalmente A farla ridere Dopo tanto tempo Ma incontra anche Un vicino di casa Un suo amico Che purtroppo Non si rivelerà Il principe a cavallo Che pensavamo E ci mostra anche Un altro lato Della violenza Di genere Ovvero Quelle persone Che possiamo definire Anche stalker Ma possiamo definire Anche semplicemente Quelle persone Che non sopportano Di venire rifiutate Non accettano Il rifiuto Nessuno Gli ha mai insegnato Da piccoli Che esistono Anche i no E scatenano La loro violenza Sul loro oggetto Del desiderio Che li ha rifiutati Che in questo caso È la donna È una donna Entrambe le violenze Sono rappresentate In modo visibile Ma devo dire che Soprattutto la seconda Può essere anche Una violenza psichica Una persona Che viene rifiutata Può non Ucciderti di botte Sempre Ma può anche Ucciderti Tormentandoti Bisogna stare molto attenti Alla violenza visibile Quella che lascia i segni Sulla pelle Ma ancora più attenti Proprio perché È molto più difficile Da percepire Alla violenza invisibile Alla violenza Quella che ti arriva Nella testa Che ti arriva nel cuore Che ti lascia ferite Che non si vedono In tutte e tre le storie Ho adorato Il ruolo di Graucio Che forse È un po' più debole Del solito Nelle sue battute Che sono più che altro Degli scioglilingua Dei giochi di parole Ma è molto più forte Molto più È capace Di sapersi fare serio Quando serve Ed addirittura È capace Di essere saggio Quando serve Spesso interloquendo Con il cliente Di Dylan Dog Di turno E mostrando una saggezza Che è superiore Anche a quella di Dylan Ecco Io vorrei vedere Anche Graucio Sempre in questo modo Magari migliorando Un po' il comparto Comico A livello di battute Ma a livello di Rappresentazione Della persona Graucio In 30 e passa anni Nessuno ha ancora capito Come scriverlo Ecco Così Bisognerebbe scriverlo Bisognerebbe Farlo diventare Un po' meno buffone Un po' più attivo Nella storia Questo è il Graucio Che voglio vedere Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questa storia Fatemi sapere Se questa storia Vi è disturbato O se vi è piaciuta E se vi è disturbato Ragazzi Domandatevi Cosa vi è disturbato E perché E scrivetemelo qua sotto Nei commenti Ne possiamo parlare insieme Io come sempre Vi ringrazio Per avermi seguito Viene qui Con l'inchino Con l'embuto Vi saluto E vi dico Arrivederci Al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti